Estra accende la mobilità elettrica anche a Sansepolcro. È stata infatti inaugurata la stazione di ricarica per le auto elettriche in largo Caponnetto Falcone Borsellino in zona Porta Fiorentina. Questa è la diciassettesima che in alleanza con le amministrazioni installiamo in favore dei cittadini, di tanti turisti che stanno sempre di più sviluppando questa sensibilità. Noi crediamo molto nella mobilità sostenibile perché sarà un importante contributo per l'abbattimento delle emissioni. Tutti gli studi indicano nelle automobili, nel traffico veicolare, uno dei problemi principali del nostro inquinamento, soprattutto del particolato fine. Fino a qualche tempo fa andare in giro con una macchina elettrica era più un'operazione di marketing. Non erano mezzi affidabili o con una grande autonomia. Oggi invece sia le auto, sia le stazioni di ricarica, le batterie si sono evolute al punto che in una dimensione cittadina come quella di Sansepolcro possono rappresentare davvero un'alternativa per muoversi nel rispetto dell'ambiente. La stazione è attiva 24 ore su 24 ed è dotata di due prese tipo 2 a 22 kilowatt, ossia la ricarica accelerata. Ma è una proposta ecologica, una proposta che l'amministrazione comunale assieme a Estra ha voluto dare alla cittadinanza e a tutti quelli che vorranno fermarsi a Sansepolcro. Anche perché questo pensiamo che sia un punto di incontro della mobilità sostenibile. Nonché fermarsi anche qualche ora a fare ricarica a Sansepolcro in un turismo lento. Questo vuole essere il messaggio che mandiamo. Dunque attenzione all'ambiente e anche attenzione ai concittadini che dotati di autoelettrica vorranno tranquillamente ricaricare frequentando il nostro centro storico. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra e fino al 30 ottobre 2019 il pieno sarà gratuito. Al di là di questa prima parte di promozionale in cui ci sarà una prima fase di ricarica gratuita, poi tramite la carta di credito, tramite delle app, tramite il cellulare si potrà semplicemente attivare la colonnina al momento in cui viene collegata con la propria auto e ricaricare nel giro di poche ore quelle che potranno consentire di fare due passi per il nostro centro storico.